secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie che non lo so non mi piace no ci sono che ci sono quindi allora questo è il nostro audizione questo è il nostro lavoro non è questo ma se C ma sonione Il tema serontami S S Ah Sto Cane né S S Chai�ich мод be isso ma zea caziano seri subito lます haリ hearい貼乗 cherente nane 160 a te going property wonver fae no湯リー ilsa pro Ninja tano ke able rarely come i cannot Per kaufen Plus E? 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 RAN 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 合格! Ah, buono! Uh! Patti. Come un ATM. Suv. Suv. Ecco. Gettetto. Grazie E? 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 ma anche se Grazie a tutti 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 Grazie a tutti